Scuola iniziata, ma studenti lasciati a piedi accade nelle borgate dello Sciclitano, dove ad anno scolastico cominciato si è presentato il problema del trasporto. A lanciare il grido d'allarme sono le mamme delle borgate di Cava Daliga e San Pieri, che si sentono lasciate da sole e abbandonate dall'amministrazione comunale di Scicli. Ancora una volta scrivono i genitori in una lettera inviata alle redazioni dei giornali, le borgate sciclitane vengono penalizzate dall'amministrazione comunale, che continua ad essere sorda ai nostri richiami. Questa volta a piangere le conseguenze sono i nostri figli, i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, che da Cava Daliga e San Pieri devono raggiungere gli istituti di istruzione superiore Don Milani e D'Antoni di Scicli. A quasi dieci giorni dall'inizio delle attività scolastiche non è stato ancora avviato il servizio scuolabus, nonostante le innumerevoli sollecitazioni e richieste da parte dei genitori agli uffici preposti. Molte famiglie che per il loro reddito dovrebbero essere sgravate dai costi di trasporto o perlomeno vederlo ridotto, sono costrette a dover avere sul bilancio familiare questo ulteriore peso non dovuto. Sono giorni, si legge ancora nella lettera, che chiediamo una soluzione, ma ci sembra che si stia solo temporeggiando, senza dare una reale certezza risolutiva.